Passiamo all'ultimo panel che è quello con Riccardo Massutti, Cyber Security Services at Buybitfinex, scusate a questo non ci vedo più, Formerly Infosec and Contributor at Wasabit Wallet. Il titolo dell'intervento è Insicurezza degli Hardware Wallet. Non lo vedo, ecco, adesso ci sarà la stessa cosa di prima. Prego tutti di stare in silenzio. Ciao a tutti, vorrei iniziare questo speech facendovi una domanda. Quanti di voi utilizzano, anzi, quanti di voi non utilizzano un Hardware Wallet contenuto in questa foto? Non contenuto. Non contenuto. Ok. Ecco, io l'ho appena comprato. Non è sicuro. Comunque, io sono Riccardo, piacere, mi occupo di Cyber Security per Bitfinex, ho precedentemente lavorato e contribuito anche a progetti open source nell'ambito comunque ecosistema di Bitcoin come Wasabit Wallet, Bisc, BTC Pay Server e tanti altri. Qua trovate comunque tutti i miei contatti sui vari social media, c'è anche un gruppo Telegram in cui faccio educazione solo su questi temi, quindi è at Bitcoin Sicurezza Privacy e trovate anche la mia chiave PGP che è, vabbè, mal formata qua ma, che potete verificare e confermare per poi scrivermi in maniera confidenziale se volete scrivere qualcosa di privato. Allora, cryptocurrency. Io oggi vorrei parlare di entropia e di casualità e voi magari direte, che palle, c'è, perché parlare di entropia e casualità che è una cosa così tecnica e noiosa alle 5 e mezza di pomeriggio dopo due giorni di evento? Beh, in realtà perché la casualità è esattamente ciò che mette in sicurezza i vostri Bitcoin. L'entropia è esattamente ciò che mette in sicurezza i vostri Bitcoin. E capirete bene che già il nome cryptocurrency, quindi criptovaluta, fa capire l'importanza della criptografia. Un'altra frase, un altro motto che viene sempre detto da praticamente tutti i vari Bitcoin nel mondo è Be your own bank, sii la tua banca. Però, come facciamo ad essere la nostra banca? Cioè, cosa serve per essere una banca? Essenzialmente una banca deve fare un sacco di cose noiose, deve seguire un sacco di processi veramente, veramente noiosi e lunghi che fanno parte del cosiddetto payment processing cycle. Quindi, essenzialmente, li vedete qua, quindi anche mettersi in comunicazione con tutte le altre banche per permettere lo scambio di valore, per esempio nel circuito SEPA o in vari altri circuiti bancari. In realtà, se noi abbiamo un full node, quindi un nodo di Bitcoin, lo stiamo già facendo. Cosa stiamo facendo? Ci mettiamo in comunicazione con gli altri nodi contenuti nella rete, verifichiamo che i saldi tra noi, che siamo una banca, e le altre banche, quindi gli altri nodi, siano corretti e questo ci permette comunque di effettuare le transazioni nella rete, comunque senza dare fiducia e senza parti, diciamo, oscure. Tutto è trasparente, tutto è tracciabile, comunichiamo con gli altri nodi, quindi questa parte del payment processing cycle la stiamo già facendo. Un'altra cosa che le banche fanno è il cosiddetto asset management, quindi la gestione vera e propria di asset, ed è un altro punto importante. Però direi che la cosa più importante che una banca fa è quella di mettere in sicurezza il denaro. Quindi, se vogliamo essere una banca, potenzialmente dovremmo comprare queste enormi porte blindate, di qualche materiale ultra sicuro che disperde il calore in una maniera particolare però non permette a ladri con varie torci, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dobbiamo anche costruirci tutto intorno al cavò, a questa porta blindata, dei muri rinforzati, dobbiamo trovare le persone che lavorano in questa costruzione e dobbiamo sperare che non facciano cazzate. E non solo, devono trovare un sistema d'allarme, quindi capite che è veramente, veramente difficile essere una banca al giorno d'oggi. E se ci fate caso, però, non tutti forse lo sanno, però la prima cosa che viene progettata quando qualcuno vuole costruire una banca è proprio il cavò. E il cavò è e deve essere estremamente resistente ad attacchi. In questa foto potete vedere, per esempio, un cavò di una banca privata a Hiroshima. Sì, esattamente il posto dove hanno sganciato una bomba da 12.000 tonnellate di tritolo. Tutto distrutto, tutto spazzato via, però una cosa che è rimasta è il cavò. E questo è esattamente quello che noi dovremmo fare con i nostri bitcoin. dovremmo costruire un cavò, dovremmo trovare il modo di creare una sorta di contenitore veramente sicuro e resiliente agli attacchi. Ha un sacco di attacchi diversi. Poi però la realtà dei fatti è questa. Quindi dai piccoli strumenti, a volte di metallo, a volte di plastica, che, non so voi, ma a me non sembrano così sicuri. E non sembrano così resilienti agli attacchi. Ma cerchiamo un attimo di capire cos'è un hardware wallet e cosa deve fare un hardware wallet. Tre punti. Deve essere specializzato, quindi deve fare una serie di piccole operazioni, non deve fare mostruosità o robe strane. Deve essere air-gapped, quindi rimanere sempre offline. Perché? Perché è qualcosa che è collegato all'internet, è attaccabile da remoto e quindi aumenta la superficie d'attacco. E deve essere minimale, semplice, piccolo, nulla di complicato. E una cosa a cui ci tengo veramente molto è che dovremmo forse cambiare il nome di questo strumento, perché non è un wallet, non è un portafoglio, è un keychain, un portachiavi. Infatti l'hardware wallet dovrebbe gestire la coppia chiave pubblica privata per permetterci di spendere dei bitcoin. Questo è il suo lavoro. E una cosa molto simpatica, che purtroppo molti non sanno, è che all'interno di questi hardware wallet ci sono essenzialmente dei piccoli computer stupidi, chiamiamoli. Quindi dei computer che non hanno un sistema operativo e fanno pochissime cose. Questi computer vengono chiamati microcontroller. E questo ad esempio è un Arduino, per farvi un attimo avere un'idea di cosa sto parlando. Immaginatevi dei piccoli chip, dei piccoli comunque dispositivi che sono dentro l'hardware wallet. E cerchiamo un attimo di capire graficamente come funziona un hardware wallet. Essenzialmente noi creiamo comunque una transazione sul nostro computer, che è potenzialmente attaccabile anche da remoto, visto che è collegato a internet. Inviamo la transazione sul nostro hardware wallet. L'hardware wallet, siccome detiene ed è l'unico detentore delle chiavi private, firma la transazione, la transazione poi è firmata, ritorna al nostro computer e il computer fa il broadcast su internet. Tutto perfetto nella teoria. Abbiamo un hardware wallet, è sicuro, open source, ci arriva a casa col sacchetto di plastica sigillato, possiamo verificare il contenuto. Però questa cosa si limita esclusivamente a queste cose. Cioè noi non possiamo verificare a pieno l'hardware, contenuto, questi famosi microcontroller. Noi non sappiamo come funzionano. Dobbiamo fidarci e porre comunque la nostra fiducia sul fatto che non siano vulnerabili o sul fatto che non contengano delle backdoor o delle vulnerabilità volute. E soprattutto ci sono diverse fasi della supply chain che non possiamo controllare. Upstream, essenzialmente quando questi microcontroller vengono creati da un'azienda terza, i produttori poi comprano questi microcontroller e nella fase di manufacturing incominciano a implementare questi microcontroller, incominciano a costruire l'hardware wallet, insomma creano il prodotto finale. Poi nella fase di downstream ci viene spedito, noi lo apriamo, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo alcuna trasparenza in nessuna di queste fasi, dobbiamo sempre porre fiducia. E capiamo bene che l'hardware wallet è il target perfetto per delle entità che vogliono attaccarci. Dico entità per ora senza far nomi, lascio a voi la fantasia. Numbers go up, bitcoin va su, i numeri vanno sempre più su, anzi è la fiat money che va sempre più giù rispetto a bitcoin. Le transazioni sono irreversibili, quindi una volta che una transazione viene effettuata non si può tornare indietro, non possiamo chiamare la nostra banca dicendo scusami ma qualcuno ha fatto una transazione che non ho fatto io. Il valore contenuto negli hardware wallet solitamente è enorme, cioè se parliamo di poche decine, centinaia di controvalori in dollari o euro sicuramente non li mettiamo su un hardware wallet. Quando incominciamo a parlare di migliaia, decine, centinaia, migliaia, milioni, le cose cambiano. Ed è pseudo anonimo, quindi un hacker, un attaccante, un'entità che vuole attaccare il mio hardware wallet comunque protetta dalla pseudonimia dietro alla blockchain di bitcoin. Quindi lasciatemi parlare un attimo di Crypto AG. Crypto AG è questa bellissima azienda svizzera fondata nel 1950 o 1952, adesso non sono sicuro, che produceva essenzialmente hardware sicuri, i cui clienti erano in 150 nazioni diverse ed erano principalmente governi. Circa aveva il 90% del market share, quindi aveva il monopolio. Azienda creata da un certo Boris Hugglin, che guarda caso nel tempo, si parla di pochi mesi, diventò un grande amico di William Friedman. E questo William era essenzialmente il chief cryptologist dell'NSA, della National Security Agency americana. E sapete, gli amici hanno fatto un gentleman's agreement, chiamato così, che imponeva Crypto AG di vendere un determinato tipo di hardware compromesso ai nemici degli Stati Uniti d'America. Quindi l'NSA decideva, attraverso un'azienda privata svizzera, quale hardware compromesso andava venduto a quale nazione. Non solo. Dopo circa 20 anni, vedete, Boris decide di abbandonare Crypto AG e segretamente NSA, CIA, quindi le due agenzie di intelligence americane, e la BND, che è essenzialmente la controparte tedesca, decidono di acquistare segretamente e spartirsi al 50% e al 50% il possesso di questa azienda. E da lì, fino al 2019, Crypto AG vendeva hardware compromesso con Backdoor a un sacco di clienti in giro per il mondo. Non solo, CIA, NSA e BND, non è che lo facevano allo scoperto, la cosa dovrà rimanere segreta, quindi utilizzavano delle aziende civetta, come Intercom Associates, Siemens, Motorola, per dettare appunto quali Backdoor inserire e cosa fare con quest'hardware qua, che poi sarebbe stato venduto dai governi. Ed è un problema, no? Che dite? E non solo, se andiamo poi a vedere quanti soldi vengono investiti da queste azenzie governative nell'attaccare la criptografia e i sistemi che gerano una criptografia, ecco che parliamo di 255 milioni di dollari investiti solo in questi programmi, che sono tantissimi soldi. E indovinate un po'? Questi quattro hardware wallet, il Trezor, il Ledger, il Bitbox e il Coldcard, che non sono altro che gli hardware wallet più importanti, consigliati, che hanno il 99% del market share del mondo degli hardware wallet, utilizzano tutti quanti lo stesso microcontroller sviluppato dalla stessa azienda. Quindi, capite bene che quando noi acquistiamo questi hardware wallet, ma in generale qualsiasi hardware wallet o dispositivo, ci sono delle parti precedenti di cui non abbiamo alcuna trasparenza, non possiamo verificare cosa succede, e per un attaccante non servirà assolutamente attaccare il produttore, basterà attaccare chi produce il microcontroller. Quindi immaginatevi, oggi compriamo un hardware wallet, il nostro preferito, nel 2032, tra dieci anni, spariscono tutti i nostri Bitcoin, solo perché qualcuno in qualche fabbrica segreta, nascosta in mezzo alla Cina, ha deciso di fare il furbo e inserirci una backdoor. Non lo so, fa paura. Quindi qual è la soluzione? Ma non vi preoccupate che non è la fine, insomma solo all'inizio. Siate paranoici, usate hardware generico e generate la vostra entropia. E' il tema principale appunto l'entropia. In che senso usate hardware generico? Per esempio questo si chiama Seed Designer, è un hardware wallet do-it-yourself, quindi che vi fate in casa, che sfrutta un Raspberry, quindi che non utilizza gli stessi microcontroller degli hardware wallet menzionati precedentemente. Ci sono altre possibilità come Spectre Wallet, stessa identica cosa, utilizza software open source e hardware che non è collegato allo stesso produttore microcontroller. Oppure usate magari il vostro computer e lo utilizzate attraverso un sistema operativo security and privacy oriented come Tails. Tails è un sistema operativo, magari che voi installate su una chiavetta, ok, inserite la chiavetta, parte quel sistema operativo, spegnete il computer, togliete la chiavetta e cancella tutto. Quindi ogni volta voi avete un sistema operativo vergino, offline, security and privacy oriented. Poi se volete farvi male come me e perdere anni della vostra vita per imparare ad essere estremamente paranoici, potete informarvi anche su CubeSOS, che è attualmente il miglior sistema operativo security oriented. Però, a me interessa la parte di entropia e dovrebbe interessare anche a voi, ma cos'è una chiave privata, ok? È essenzialmente un numero molto grande e un numero molto casuale. E per farvi capire la sicurezza che c'è dietro le chiavi private di Bitcoin, sappiate che ci sono più combinazioni di chiavi che atomi nell'universo, ok? La sicurezza di Bitcoin è data dalla matematica. Inizialmente noi dovevamo avere, anzi avevamo solamente una coppia di chiavi pubbliche e private e dovevamo poi fare il backup di tutte queste coppie ed era veramente difficile. Poi i The Developer hanno avuto un'idea molto geniale, ovvero hanno creato una chiave, una coppia unica di chiave che poi andava a creare altre tante chiavi. E questa cosa ci ha permesso di essere molto più flessibili nella gestione di questi asset credito finanziari. Poi un'altra serie di sviluppatori hanno detto cavolo ma se noi troviamo il modo di trasformare una serie di parole, quindi 12-24 parole, il famoso seed, in questa chiave che poi genera altre chiavi, abbiamo effettivamente il modo perfetto per salvare i nostri wallet e le nostre chiavi private. Perché gli umani, gli esseri umani non sono bravi a ricordarsi numeri molto grandi, però sono molto bravi a ricordarsi della serie di parole. Sempre entropia, sempre chiavi private, mi piace molto questa frase qua, quindi tutti gli effetti della natura sono solamente una conseguenza matematica di un piccolo numero di leggi immutabili. Quindi questa cosa qua va un po' contro quello che abbiamo appena detto, se tutto è calcolabile, allora dove sta la casualità? E poi ho pensato, ma se io generassi casualità attraverso per esempio il lancio di una moneta, quindi testo croce, quindi togliessi magari la fiducia che io pongo in questi hardware potenzialmente modificati e che contengono backdoor, riuscirei a generare una chiave privata o un seed veramente sicuro? E fortunatamente qualcuno prima di me ci ha pensato. Un certo Percy Diaconis, penso che si pronunci così, ha incominciato un noto mago matematico, insomma gli piacevano giochi di magia, carte, monete, eccetera, ha incominciato a verificare se effettivamente il lancio di una moneta fosse casuale, che ci fosse il 50% probabilità che uscisse la testa o la croce. E è riuscito a costruire un dispositivo che a prescindere da come posizionasse la moneta comunque riusciva a determinare cosa sarebbe uscito. Quindi in realtà se io ho abbastanza informazioni sulla moneta, sul tipo di lancio, sul numero di spine, eccetera, riesco effettivamente a predire quello che uscirà. E non voglio tirarla troppo lunga ma non c'è il 50-50% ma c'è il 51% e il 49% di possibilità. Quindi se io ho testa, se io vedo la testa, la lancio, c'è il 51% che esca a testa. Non lo dico io, ci sono degli studi dietro e sono molto affascinanti. Poi ho detto, ok, quindi questa cosa qua non mi piace molto. In realtà è comunque buona, nonostante che non sia veramente casuale ma che sia comunque interpretabile in certi modi e ipotizzabile. Il fatto qual è? Che se io faccio tanti, 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 tanti lanci, le leggi fisiche della natura creano una serie di variabili che mi danno vera e propria entropia. Però bisogna fare tanti lanci. Ovviamente sarebbe una bella rotura di scatole e star là a tirare monete per tutto il giorno, no? Quindi, ah, dovrebbe esserci un video, ma... Ok, saltiamo. Quindi ho cominciato a pensare, ma perché non i dadi? Alla fine praticamente tutti abbiamo dei dadi in casa e i dadi teoricamente dovrebbero generare casualità. Si è lanciato in un certo modo. Però in realtà i dadi, quelli commerciali, non sono veramente casuali. perché vedete anche dalla foto, ogni faccia magari ha del peso in meno, ogni faccia magari ha delle problematiche, no? Non sono comunque buchi perfetti, ma in generale vanno a cambiare totalmente il peso del dado. E allora cosa ho pensato? Magari con i dadi da Casino, quindi quelli perfetti, noi riusciamo veramente ad avere casualità, a creare entropia senza fidarci dell'hardware. E quindi ho cominciato veramente a ossessionarmi su questi dadi, tanto che i miei amici che mi conoscono sanno benissimo che li porto dietro sempre con me. E quindi ho detto, ma ha senso magari investire in questi dadi da Casino? Ha veramente senso diventare così paranoici per creare una chiave privata o un seed senza fidarmi dell'hardware? La risposta in realtà è no. Perché anche se utilizzate delle monete contraffatte o dei dadi che non sono perfetti, comunque facendo un grande numero di lanci andrete effettivamente a generare entropia e casualità che vi permetterà poi di creare un wallet, una serie di chiavi private pubbliche sul vostro hardware wallet senza fidarvi dell'hardware stesso. Purtroppo non ci sono tutti i video, quindi tutto ciò non conta. Ok? Gli hardware wallet sono comunque strumenti sicuri, però non dovete fidarvi dell'hardware stesso. Perché? Perché essenzialmente aiutano la maggior parte delle persone che non hanno abbastanza competenze tecnico-informatiche per generare sicurezza su un computer di casa, un wallet. Aiutano tantissimo. Sono un ottimo compromesso tra sicurezza e convenienza. Però non dovete e non siete obbligati a generare il seed e le chiavi private con l'hardware, con l'hardware wallet. Voi potete tranquillamente generare il seed e le chiavi private manualmente. E questa è la cosa che vi consiglio. Questo è proprio il tema di questa sera. Insicurezza degli hardware wallet. Perché sono insicuri perché non possiamo fidarci del loro funzionamento. Soprattutto in relazione alla generazione di chiavi private e seed. Perché potenzialmente potrebbero esserci delle backdoor dietro. Anzi, ci sono. Quindi creiamo il nostro seed chiavi private con un lancio di dadi. Inseriamo il seed e possiamo poi verificarlo attraverso alcuni metodi che effettivamente venga salvato nell'hardware wallet. E stiamo sicuri. Quindi ragazzi, non fidatevi di qualsiasi hardware perché qualsiasi hardware potenzialmente ha backdoor. Non fidatevi del software. Soprattutto se è closed source. Magari meglio utilizzare software open source. Utilizzate hardware software generico come seed signer, Spectre, Taze o CubesOS e monete e dadi commerciali ed economici vanno comunque bene. A patto che facciate abbastanza lanci. Ragazzi, ancora? Certo, gli hardware wallet sono ottimi. Però togliete la fiducia che avete nella generazione di chiavi private e seed. E questo essenzialmente era lo speech di questa sera. E mi piacerebbe che tre persone a caso nel pubblico vengano qua nel palco. E posso assicurarvi che ne gioverete. Perché potrete ricevere un qualcosa che vi accompagnerà nel vostro comunque percorso di gestione di asset cripto finanziari come Bitcoin e vi darà comunque un po' più di sicurezza. Quindi è in corso. Ho detto i primi tre, scusate. Allora, essenzialmente qua grazie a CoinKite che è un'azienda produttrice di hardware wallet ha deciso comunque di sponsorizzare e aiutare comunque il mio speech e ho deciso appunto di regalare un set di hardware wallet che è in questo caso appunto il call card di CoinKite una piastra metallica dove salvare il seed e un fantastico set di cento mini dadi qua dentro sembra strano ma ci sono cento mini dadi che vi permetteranno poi di generare un seed abbastanza sicuro veramente casuale grazie comunque a leggi fisiche senza fidarvi dell'hardware wallet quindi sono fortunati. Grazie. Però non fidatevi mi raccomando usate i dadi. meglio se quelli da Casinò però se fate cento lanci anzi un lancio con cento dadi va comunque bene. Grazie. Grazie a Riccardo Massutti e se c'è una domanda eccola lì giù in fondo prova volevo chiedere come faccio tecnicamente a collegare cioè il mio hardware wallet con questo discorso dei dadi come faccio a generare la chiave attraverso i dadi dipende dall'hardware wallet da hardware wallet hardware wallet attualmente la maggior parte di hardware wallet permettono di inserire comunque un seed attraverso il lancio dei dadi altri invece permettono per esempio di si generare il seed attraverso il random generator dell'hardware wallet ma di aggiungere entropia attraverso i dadi quindi essenzialmente ci sono più cose che si possono fare si può creare esclusivamente tramite i dadi oppure aggiungere entropia aggiungere casualità con il lancio degli stessi dovete però verificare nella documentazione del vostro hardware wallet preferito quindi parlo per me che ho il ledger posso aumentare l'entropia con i dadi quindi si dovresti poterlo fare ma addirittura te potresti per esempio decidere di creare il seed manualmente sfruttando comunque una lista di parole appunto del le 24 parole e poi inserirle manualmente sull'hardware in quel caso però vedi il problema che alcuni hardware wallet non ti fanno verificare fino in fondo che quello che inserisci effettivamente è quello che vorresti inserire quindi qua si aprono comunque altri scenari da considerare purtroppo non ho avuto moltissimo tempo stasera però sicuramente se entrate nel gruppo Bitcoin Sicurezza Privacy ci sono tantissime persone che vi possono aiutare in tal senso c'è gente che utilizza veramente abbiamo utenti per ogni tipo di hardware wallet che hanno già fatto questo processo qua io ho consigliato in questo caso il cold card ma per un motivo personale perché lo ritengo comunque un prodotto molto 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 valido però ne lo ripeto Ledger è molto valido Beatbox è valido Jade è valido cioè qualsiasi other wallet è valido il problema però è che capite bene che sono strumenti che utilizzeremo per gestire probabilmente molto valore e sarebbe molto bene cercare di comunque avere il miglior sistema sicuro sin dall'inizio purtroppo però l'ho detto lo ripeterò la sicurezza come la privacy non è un acquisto ma è un processo quindi non esiste al mondo uno strumento che potete comprare che vi darà massima privacy o massima sicurezza si tratta di studiare capire comunque le problematiche dentro il mondo della cyber security o della privacy e poi cercare di applicare comunque concetti che trovate in giro che avete imparato questa sera per migliorarvi e soprattutto la sicurezza come la privacy non è una corsa ma una maratona una cosa veramente lunga e che dovete vedere nel lungo termine bene siamo un po' fuori con i tempi io ti ringrazio ringrazio tutti voi e